Quest'anno per augurare a voi tutti le buone feste ho pensato di fare un piccolo montaggio con tutti noi, con tutto lo staff di Bunker & More che vi fa gli auguri di buone feste. Io sono il primo e quindi auguro a tutti voi buone feste, buon Natale, tanta salute, tanta felicità e perché no anche tanti soldi. Ciao da Vincenzo. Auguri di buon Natale e buone feste da parte di Luca e Museo XX secolo a tutti i fans di Bunker & More. Ciao, sono Salvatore, collaboro con Bunker & More e vi volevo augurare un buon Natale e un felice 2018 a tutti i quali che continuate a seguirci. Sono Guido dell'Ombra del Suono, partner e tecnico di Bunker & More e auguro a tutti buone feste. Ciao ragazzi, sono Pietro Capuano, collaboro con Bunker & More nel progetto Soft Air Experience e auguro a tutti voi un felice Natale. Ciao a tutti, sono Marino e in Bunker & More mi occupo principalmente di itinerare in moto. Vorrei augurare a tutti quanti un sereno Natale e un 2018 ricco di prospettive e soddisfazioni. Buone feste! Ciao ragazzi, sono Federico, tanti auguri di buon anno e di buon Natale a tutti voi, a tutti gli amici di Bunker & More. Ciao, sono Valerio ed anch'io collaboro con l'associazione Bunker & More. Volevo augurarvi un fantastico Natale, un meraviglioso venizio d'anno e ricordarvi soprattutto tutti gli appuntamenti dell'anno nuovo con Bunker & More. Ciao a tutti e auguri! Ciao a tutti i ragazzi, sono Eddie Capuano, io collaboro con il progetto Bunker & More, nello specifico in quello che è la parte Soft Air Bunker Experience. Auguro a tutti un felice Natale e delle feste meravigliose con i vostri cari. Ciao! Ciao, sono Walter di Bunker & More. Nell'associazione mi occupo del sito internet e sono anche l'autore del logo. Vi auguro delle buone feste e soprattutto un 2018 ricco di misteri e nuove scoperte.